Allora Stefano, scherzavamo dopo la partita, ti abbiamo visto arrivare proprio all'ultimissimo però insomma c'è anche del tuo, della tua qualità però basta che un giocatore arrivi un quarto d'ora dall'inizio del match e realizzò una doppietta decisiva e porta a casa un pareggio importante a netto di questo però è stata una bella dimostrazione per l'ennesima volta di grande attaccamento nei confronti dei colori bianco-blu Ecco inizio subito con la battuta che siamo fatti prima se funziona sempre così arrivo anche giusto, dai così almeno porta bene Ci abbiamo messo come sempre del nostro, siamo soddisfatti perché non era facile oggi come partita tante assenze e poi loro sono un'ottima squadra non giocavamo diciamo né noi né loro per un obiettivo concreto però è stata una bella partita, giocata ad alti ritmi a sprazzi veramente, poi non so come l'avete visto voi da fuori però ci abbiamo messo del nostro, abbiamo iniziato un po' sottotono infatti loro, soprattutto il primo tempo, hanno tenuto un po' più le reddini nel gioco però poi siamo usciti e è andata bene, dai siamo riusciti a portare a casa un pareggio e volevo salutare appunto, fare le condolienze alla famiglia del ragazzo che è mancato era molto amico di alcuni miei compagni quindi siamo stati alla famiglia e ai miei compagni perché era un loro amico, un loro coetaneo avete fatto un gesto inizio partita nei confronti dei tifosi la parola ha buttata fuori, questo applauso verso la tifoseria anche a cementare un po' tutto quanto l'ambiente dopo le traversie che ben sappiamo poi c'è stata anche la visita del presidente Ivaldi che penso vi abbia fatto comunque piacere nel post partita Sì assolutamente, l'abbiamo fatto solo e esclusivamente perché nonostante tutto questi ragazzi ci seguono ci seguono sempre, ovunque andiamo, a prescindere dall'importanza della partita quindi era un gesto che secondo me andava fatto nei loro confronti Sì è venuto il presidente Ivaldi, ci ha rincuorato, ci ha ringraziato perché sai c'era il dubbio appunto del dover scendere in campo o no noi l'abbiamo rassicurato, gli abbiamo detto appunto che avremmo concluso la stagione ci avremmo messo comunque l'impegno e saremmo scesi in campo sempre per onorare la maglia e per giocarci la partita a prescindere da chi andiamo a affrontare